Davide Tagliabue per l'EcoFM, siamo con Lorenzo Carissoni, terzino destro, ma anche a questo punto della stagione esterno di centrocampo dell'Eco. Quale delle due posizioni preferisci? Cos'è cambiato da quanto D'Agostino mette la difesa a tre? Sicuramente giocare come quarto di difesa è un ruolo che mi aiuta, nel senso che sono un giocatore molto difensivo, forte in difesa e che ha buona spinta. Posso fare anche il quarto di centrocampo, sicuramente richiede molta gamba e anche buone qualità in fasi offensive. E' forse in quell'ambito che devo migliorare, forse nelle fasi offensive, però comunque col mister ci lavoriamo tutti i giorni e comunque correndo tanto sulla fascia è un bel compito sulla fascia. Già contro il Como hai provato a spingere in avanti in più di un'occasione, anche con buoni risultati direi. Siamo arrivati ormai alla partita contro la Carrarese. Cos'è cambiato dall'inizio della stagione fino a questo punto? Credo che quello che sia cambiato soprattutto nelle ultime due partite sia il gruppo. Abbiamo dimostrato di essere il gruppo e lo dimostra il fatto che tutte le partite sono rimaste in piedi fino alla fine, fino a che siamo riusciti a recuperarle proprio negli ultimi minuti. E' un gruppo che si dà una mano sempre in campo, uno con l'altro e insieme sicuramente si è più forti. L'anno scorso giocavi alla Carrarese, contro cui l'Eco giocherà domenica alle ore 17.30. Come si batte la Carrarese? La Carrarese è sicuramente una squadra con giocatori molto forti per la categoria, se non di categoria superiore. E' una squadra che conosco bene, gioca sempre per far gol e questa sua arma, conosco bene anche l'Encarnatore, è molto offensivo. Questa sua arma a volte la penalizza, nel senso che magari si sbilancia e questo concede alle spalle dei difensori molti pericoli. In poche parole bisogna concretizzare di più. Esatto, sicuramente non avremo una marea di occasioni, dovremmo essere bravi noi a sfruttarle al meglio e speriamo di farcela. E soprattutto anche più contenimento in difesa e magari anche sulle fasce, parlando della tua posizione in campo. Sì, sicuramente ci sarà bisogno di tutti, a partire dai quinti, dalle punte, da parte di tutti, sacrificarsi anche perché queste partite sono partite belle, nel senso che te la puoi giocare comunque a viso aperto e poi si vedrà in campo chi è più forte. Grazie. Grazie.